Onorevoli colleghi, il disegno di legge 1372 di iniziativa governativa è approvato dalla Camera dei Deputati collegato alla legge di bilancio 2019 e conferisce delega al Governo e rega ulteriori disposizioni in materia di ordinamento sportivo. Deriva dallo stralcio disposto dal Presidente della Camera di alcune disposizioni del disegno di legge originariamente proposte dal Governo, atto Camera 1603. Le altre disposizioni stralciate costituivano oggetto di un distinto disegno di legge recante disposizioni per il contrasto della violenza in occasione di manifestazioni sportive, il cui esame presso la Commissione Giustizia e la Camera dei Deputati si è concluso il 18 luglio 2019 e che ora sono confluite nel decreto legge in materia di ordine e sicurezza pubblica approvato dagli anni dal Senato. Il disegno di legge è costruito da dieci articoli organizzati in quattro capi. Il capo primo, composto dagli articoli da uno a quattro, rega disposizioni in materia di ordinamento sportivo. In particolare, l'articolo uno conferisce delega al Governo per il riordino del Comitato Olimpico Nazionale e della disciplina di settore. Tra principi e criteri direttivi della delega ricordo la definizione degli ambiti di attività del CONI, delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di funzione sportiva, dei gruppi sportivi militari, dei corpi civili dello Stato e delle associazioni benemerite, in coerenza sia con le novità introdotte dall'articolo 1,630 della legge 145 del 2018, che tra l'altro è affidata alla sport e salute e spa il compito di finanziare gli organismi sportivi, sia con il ruolo proprio del CONI quale organo di governo dell'attività olimpica. La conferma dell'attribuzione al CONI, in coerenza con quanto disposto dalla carta olimpica della missione di incoraggiare e divulgare i principi e i valori dell'olimpismo in armonia con l'ordinamento sportivo internazionale, lettera E. La previsione di limitazioni e vincoli, inclusa la possibilità di disporre il divieto per le scommesse sulle partite di calcio delle società che giocano nei campionati della lega nazionale direttanti. La previsione che il CONI eserciti poteri di vigilanza sulle attività sportive delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di funzione sportiva e delle associazioni benemerite. Fermi l'autonomia delle federazioni sportive e delle discipline sportive associate e la loro capacità di determinare la propria politica generale, al CONI attribuito a Tresì il potere di commissariare le federazioni sportive nazionali e discipline sportive associate nell'ipotesi di accertamento di grave violazione di norme degli statuti e dei regolamenti, lettera G. L'articolo 2 introduce misure relative ai centri sportivi scolastici con l'obiettivo di organizzare e sviluppare la pratica dell'attività sportiva nelle istituzioni scolastiche. Alle scuole di ogni ordine e grado è attribuito alla facoltà di costituire un centro sportivo le cui attività disciplinate con regolamento approvato dalla scuola medesima sono oggetto di programmazione da parte del Consiglio d'Istituto. L'articolo 3 rega disciplina relativa alla cessione al trasferimento dell'attribuzione del titolo sportivo definito quale insieme delle condizioni che consentono la partecipazione di una società sportiva a una determinata competizione nazionale. L'articolo 4 introduce l'obbligo per gli atti costitutivi delle società sportive professionistiche di prevedere la costituzione di un organo consultivo deputato a tutelare gli interessi dei tifosi tramite le espressioni di pareri obbligatori ma non vincolanti sulle questioni di loro interesse. Il capo secondo composto dell'articolo 5 e 6 interviene in materia di professioni sportive. L'articolo 5 conferisce Teleca al Governo per il riordino alla riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e direttantistici nonché del rapporto di lavoro sportivo. Tra i principi e criteri direttivi della Teleca segnalo il riconoscimento del carattere sociale e preventivo sanitario dell'attività sportiva il riconoscimento dei principi di specificità dello sport e dei rapporti di lavoro sportivo l'individuazione della figura del lavoratore sportivo e ricompresa la figura del direttore di cara. L'articolo 6 conferisce Teleca al Governo per il riordino delle disposizioni in materia di rapporti di rappresentanza di atleti e società sportive e di accesso e esercizio nella professione di agente sportivo. Il capo terzo composto dall'articolo 7 e 9 rega disposizioni di semplificazione di sicurezza in materia di sport. L'articolo 7 conferisce Teleca al Governo per il riordino della riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi nonché della disciplina relativa alla costruzione di nuovi impianti sportivi, alla ristrutturazione e al ripristino di quelli già esistenti, inclusi quelli scolastici. L'articolo 8 conferisce Teleca al Governo per il riordino delle disposizioni legislative relative ai riempimenti e agli oneri amministrativi e di natura contabile a carico delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di emozione sportiva, delle associazioni di bene merito e delle loro affiliate riconosciute da Alconi. L'articolo 9 conferisce Teleca al Governo per l'adduzione di uno o più dei chiedi legislativi in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali al fine di garantire livelli di sicurezza più elevati. Il capo 4, quarto, costruito sull'articolo 10, rega le disposizioni finali. Ora mi sia consentito di aggiungere alcune annotazioni sperando di rimanere all'interno dei tempi che mi sono stati assegnati perché credo sia necessario, a di là della relazione tecnica, introdurre ulteriori elementi di riflessione rispetto alla lettura, oserei dire, notarile dell'articolato. Partiamo dalla razio che ha ispirato questa riforma, una razio che parte dalla finanziaria del 2018, che ha introdotto importanti novità nell'ordinamento sportivo italiano e che ha ridisegnato anche la figura del CONI, ha ridisegnato un ruolo che il CONI ha avuto o assegnato da questa riforma, ma che di fatto ha sconvolto anche gli assetti e il panorama dell'ordinamento sportivo italiano. Ma sconvolto non significa non averli migliorati, ma poi su questo ovviamente ci ritornerò. Noi siamo stati abituati per anni a vivere un ordinamento sportivo interpretato e gestito dal CONI, portando avanti solo logiche di carattere competitivo, ma questo evidentemente non ha prodotto la formazione all'interno del nostro Paese di una cultura sportiva che invece avrebbe favorito lo sviluppo dello sport a 360 gradi, soprattutto sotto le accezioni sanitarie, sotto le accezioni informative che invece il nuovo Governo ha inteso inserire all'interno della riforma e successivamente all'interno di questo provvedimento di legge che ne va a dettagliare alcuni aspetti. In particolare la domanda che ci si è posti, lo sport, o meglio il CONI è lo sport, ma lo sport italiano è solo il CONI? Questa è la domanda che il Governo italiano si è posto e nell'andare a ridisegnare gli assetti ha voluto riappiopriarsi di alcune capacità di indirizzo del mondo dello sport che forse erroneamente, anzi sicuramente erroneamente, nel corso degli anni erano state attribuite al CONI. Bene, da questo punto di vista il dibattito è stato tutto incentrato quasi esclusivamente sul ruolo del CONI, legittimamente, anch'io ho espresso alcune perplessità in merito, però questo ha prodotto un risultato, a mio avviso, ingeneroso nei confronti di quelle che sono state le conseguenze che sono scaturite dalla riforma in primo luogo. Mi riferisco al finanziamento dello sport italiano che è stato ancorato al 32% del gettito fiscale prodotto dallo sport e che già da quest'anno ha prodotto 60 milioni in più. Già questo mi sembra un risultato ragguardevole che ha migliorato il funzionamento della macchina sportiva italiana che fino ad oggi era stato invece fissato a un finanziamento fisso da parte dello Stato di 420 milioni. Badate bene, 420 milioni che comunque non possono assolutamente rappresentare la cifra di sotto della quale si deve andare perché in ogni caso il 32% può essere vissuto soltanto in eccesso e non in difetto. Questo dibattito però ha ingenerosamente nascosto quelle che sono le altre peculiarità invece del provvedimento di legge che stiamo esaminando oggi, sul CONI poi tornerò successivamente, e che riguardano una serie di novità che sono state introdotte all'interno di questo provvedimento legislativo, che passano per alcune importanti innovazioni che impegnano anche i nostri istituti scolastici, grazie alle istituzioni dei centri sportivi scolastici, ma soprattutto ha introdotto novità importanti per quello che riguarda gli aspetti gius lavoristici del lavoro sportivo. Ma sarebbe disonesto intellettualmente se io non tornassi a parlare non solo del mio ruolo di radore, ma anche della lettera che oggi è stata capitata dal CIO Alconi. Bene, io da questo punto di vista mi sento profondamente in linea con gli intendimenti del Governo perché anche all'interno di un mio ordine del giorno è stato accolto l'impegno da parte del Governo di armonizzare qualsiasi processo legislativo ai principi della Carta Olimpica, in particolare l'articolo 27, e mi sia infine consentito di esprimere un'ulteriore riflessione sul ruolo di relatore che ho svolto, forse un ruolo di stimolo nei confronti della mia maggioranza, ma sempre all'interno di un contesto civile, di un contraddittorio e della capacità di confronto che ho esercitato sia in Commissione sia all'interno del mio gruppo. Da questo punto di vista voglio segnalare che è doveroso da parte mia ringraziare sia il Governo che il Presidente Pittoni che il Presidente Romeo che non solo non si sono mai ingeriti all'interno di quelle che sono state le dinamiche che hanno caratterizzato questo percorso mi hanno rinnovato continuamente la fiducia rispetto al lavoro che stavo portando avanti. E questo contraddittorio, io vado a concludere veramente soltanto due battute perché ci tengo anche perché credo sia doveroso anche rispettare il ruolo che ha esercitato l'opposizione in questo contesto perché al di là di quelle che sono le liturgie classiche che ispirano i comportamenti sia in Aula che in Commissione, siamo andati ben oltre il dettato dispositivo, siamo andati ben oltre quelle che erano le vicende relative all'accoglimento o se vogliamo al rispingimento di tutti gli emendamenti che sono stati presentati ma all'accoglimento anche degli ordini del giorno. La capacità propositiva sia di maggioranza che di opposizione è stata incomiabile e io sono sicuro che gli emendamenti e ovviamente gli ordini del giorno sono quelli approvati soprattutto ma sono convinto che gli emendamenti non rimarranno lettera morta all'interno del lavoro di stesura delle teliche e su questo auspicio io voglio concludere il mio intervento ringraziando veramente tutti per il contributo che è stato dato. Grazie.